E quello lì è un navigatore questo, lo trovate in America, sì, un navigatore manuale, ma funziona. Era in una raffineria, quando partiva l'autobot, girando la maniglia di là impostavano il nome della stazione di servizio, poi girando la maniglia di qui venivano fuori le miglia, le strade da fare. Oh caspita, ma di che anno è quello lì, anche quello lì è proprio uno dei primi navigatori, prima di quelli moderni, ma guardate bottiglietti e oliatori, poi ne ha di tutti i tipi, piccoli, minimi. E questo è l'occhio che dicevo prima che è obbligatorio, che fa vedere che passa la benzina. che c'è dentro una... Sì, c'è dentro un farfallino che... Per dire che ti stanno mettendo la benzina. Il gallone. E queste coppie cosa sono? Coppie che lei ha vinto? Sì, sì sì. Quindi lei cos'è, il primo al mondo che ha una raccolta... Sì, è considerata la più completa al mondo, per quello che ha fatto il Guinness del Prima. Ebbè... C'è quello del mosaico che c'è all'ingresso, no? Sì. Il primo... Ah, ecco, giusto. Il primo doppio elettrico. Questo era a Milano, in piazza Piemonte. Quale? Questo qui? Questo, sì. C'è la fotografia... In piazza Piemonte. Ah. Quindi è riuscito a salvarlo, lei? No, perché era un rotame, poi insomma... L'ha sistemato? Non lo erano questi oppure vi sceglieranno? No, no, sono in colore originale. Perché io poi chiedevo la ditta... Certo. Che l'aveva fatto, dico, ma che colore è il colore originale? Questa non so... Ecco la fia, come dicevo, che vendeva la benzina. Ah, ecco, io proprio... Certo. Prendete qua la cintura del taglio..? Eh, ecco... Eh, ecco... Eh, eh, ecco, che ne citata di cambiare la brassina?